salve a tutti siete all'ascolto di insider dentro la tecnologia un podcast di digital people e io sono il vostro host davide fasoli oggi vedremo che cos'è un super computer a che cosa serve e che differenze ha rispetto ad un computer quantistico prima di passare le notizie che più ci hanno colpito questa settimana vi ricordo che potete seguirci su instagram a chiocciola dentro la tecnologia iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su spotify apple podcast google podcast oppure direttamente sul nostro sito la pec opposta elettronica certificata è uno strumento utilissimo tanto che l'unione europea ha deciso con qualche aggiustamento di adottare lo standard pec ad oggi prerogativa italiana in tutta l'eurozona avere una pecca ormai un costo irrisorio ma esclusi liberi professionisti le partite iva o le associazioni che la utilizzano per garantire comunicazioni ufficiali firmate e sicure per il resto sono pressoché inutili o almeno fino al 6 luglio quando entrerà in vigore l'indice nazionale dei domicili digitali attraverso questo portale a cui si può accedere tramite speed o cie i cittadini potranno infatti indicare il proprio domicilio digitale ossia la pec sulla quale riceveranno le comunicazioni della pubblica amministrazione come multe raccomandate certificazioni e tutto ciò che fino ad oggi riceviamo tramite posta cartacea all'indirizzo di residenza lo strumento della pec quindi diventerà così utilissimo anche per tutti i cittadini che potranno ricevere le comunicazioni in modo sicuro veloce ed efficiente senza la paura che le raccomandate vengano perse o non arrivino a destinazione inoltre chi non indicherà la propria pec sul portale dedicato continuerà a ricevere le classiche raccomandate cartacee per posta pagando però dei costi aggiuntivi ecco quindi che la pec non solo sarà uno strumento più pratico ed efficiente ma anche più economico mentre in italia non si sa ancora se e quando verrà realizzato uno stabilimento intel per la fase di packaging dei processori la germania è diventato il primo paese a trovare un accordo con la multinazionale statunitense per la costruzione di due impianti di semiconduttori nel proprio territorio il contratto prevede un investimento da oltre 30 miliardi di euro da parte di intel e 10 miliardi direttamente dal governo tedesco con l'obiettivo di realizzare due fabbriche per la produzione di microprocessori nei pressi della città di magdeburgo l'annuncio da parte di intel di accrescere la propria presenza nel continente europeo è strettamente connessa all'adozione del chips act ovvero una serie di misure legislative finanziarie che puntano a sostenere la produzione di semiconduttori in unione europea e ridurre la dipendenza del blocco orientale garantendo inoltre alla commissione la possibilità di controllare al meglio le esportazioni spotify sta pianificando di lanciare un nuovo piano di abbonamento chiamato su premium che potrebbe includere lo streaming audio lossless e cioè la possibilità di riprodurre i brani ad alta risoluzione in formati audio non compressi questa funzione chiamata spotify hi fi è stata annunciata nel 2021 ma non ancora stata resa disponibile il nuovo piano potrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno inizialmente in alcuni specifici mercati il motivo per cui spotify potrebbe prevedere il pagamento di un prezzo aggiuntivo per questa funzionalità sta nel fatto che riprodurre musica a qualità superiore occuperebbe più banda per i propri server andando di fatto a rappresentare per la piattaforma un costo superiore il prezzo di spotify hi fi è stato oggetto di speculazioni soprattutto dopo che concorrenti come amazon music e apple music hanno comunque offerto lo streaming lossless senza costi aggiuntivi in un paio di occasioni su questo podcast abbiamo parlato di computazione quantistica e in particolare di come funzionano e del ruolo che hanno e avranno i computer quantistici nella risoluzione di diversi problemi sia matematici che informatici portando tra l'altro anche il punto di vista di ibm azienda che tra le altre cose lavora sulla computazione quantistica e possiede il computer quantistico più potente al mondo in grado di risolvere in pochi secondi problemi computazionali che i più potenti super computer risolverebbero in centinaia se non migliaia di anni ciò nonostante lo sviluppo di super computer tradizionali non si è affatto fermato anzi è in continua crescita proprio a novembre 2022 infatti è stato ufficialmente presentato a bologna leonardo il quarto super computer più potente al mondo finanziato grazie ai fondi europei dell'euro hpc euro high performance computing che mirano a rendere l'unione europea tra i leader mondiali del settore i computer quantistici quindi non sono destinati a rimpiazzare i super computer quanto piuttosto ad affiancarli in compiti ben specifici in questa puntata cercheremo proprio di capire cosa sono e come funzionano super computer come leonardo in cosa sono diversi dai computer quantistici e perché queste tipologie di calcolatori insieme sono e saranno fondamentali per lo sviluppo della ricerca scientifica e di conseguenza dello sviluppo di servizi in tutti i settori della società sia pubblici che privati prima di iniziare quindi facciamo un breve riassunto di cosa sono e come funzionano i computer quantistici tema che come dicevamo abbiamo approfondito con ibm nella puntata ibm porre le basi per i computer quantistici a differenza dei computer tradizionali che ragionano in bit ossia l'unità di base dell'informazione che può assumere valore di 0 o 1 i computer quantistici lavorano con i qubit ossia quantum bit il valore dei qubit è dato dallo stato di particelle subatomiche come gli elettroni che grazie alla meccanica quantistica possono assumere valori che sono combinazioni contemporanee di 0 e 1 questo apre la strada a una rivoluzione nel calcolo parallelo in quanto si possono calcolare contemporaneamente milioni di combinazioni diverse di uno stesso processo trovando in pochi secondi soluzioni a problemi che normalmente richiederebbero anni di calcoli e questo limite del calcolo tradizionale è sfruttato ad esempio nel campo della crittografia dove le chiavi crittografiche con un quantum computer abbastanza potente verrebbero violati in qualche secondo contro le migliaia di anni che impiegherebbe un super computer che sarebbe costretto a provare poche alla volta tutte le possibili combinazioni per fare un esempio pratico da una parte avremo una chiave che riesce ad assumere tutte le forme possibili contemporaneamente nel momento in cui cerchiamo di aprire una serratura dall'altra dovremmo provare a utilizzare una chiave diversa per volta i super computer dunque sono banalmente dei computer tradizionali ma molto più grandi e performanti riportando l'esempio del super computer leonardo l'intera infrastruttura occupa una superficie di ben 1500 metri quadrati tanto quanto una casa di grandi dimensioni per quanto riguarda l'architettura vera e propria invece i computer tradizionali e i super computer sono abbastanza diversi nonostante si possono comunque notare alcune similitudini entrambi infatti hanno un'architettura composta da memoria interna memoria ram cache scheda grafica e cpu mentre sul normale computer però c'è solamente una cpu e una gpu su un super computer sono installati numerosi processori e schede video che seguono diversi compiti contemporaneamente e quest'ultima è proprio una parola chiave su cui torneremo a breve va notato comunque che cpu e gpu sono sì ottimizzate per la tipologia di architettura in questione ma sono delle comuni cpu e gpu che possiamo trovare anche nei nostri computer sempre tornando all'esempio di leonardo questo dispone di 3500 cpu intel xeon e 14000 gpu nvidia oltre a 3000 terabyte di memoria ram e 150 mila terabyte di memoria interna un'altra cosa che possiamo notare è l'enorme sbilanciamento nella quantità di processori video a discapito della cpu nel caso di leonardo 14.000 contro 3500 questo principalmente per il modo in cui vengono impiegati i super computer che richiedono di effettuare calcoli complessi solitamente in campo vettoriale o di elaborare immagini dove appunto proprio le schede video sono specializzate ma quindi come funziona di fatto un super computer dicevamo poco fa che la parola chiave è la contemporaneità dei processi le diverse cpu e gpu infatti si possono paragonare a singoli computer con una memoria condivisa è compito del sistema operativo poi distribuire i carichi di lavoro sui processori per poter eseguire in parallelo diversi calcoli e unire poi i risultati anche in questo caso un comportamento simile avviene già nei computer moderni con i cosiddetti processori multicore ossia processori con dentro più unità che eseguono compiti in modo parallelo tra l'altro avendo un bilanciamento del carico di lavoro sui vari processori permette non solo di eseguire i task molto più velocemente di un computer a cui siamo abituati ma permette anche all'interno del super computer di essere modulare e quindi espandibile con ulteriori processori o ulteriore memoria o addirittura essere connesso ad altri super computer per creare dei raggruppamenti ancora più potenti e veloci la vera sfida sta dunque nel software che deve essere in grado di gestire e orchestrare alla perfezione i vari processi di fatto anche in casa con i software giusti sarebbe possibile creare un piccolo super computer facendo lavorare in sinergia diversi pc che abbiamo a disposizione ma quanto sono veloci i super computer nel caso dei computer tradizionali infatti un'indicazione che possiamo avere solitamente è data dal modello e dalla frequenza della cpu quando sentiamo parlare ad esempio di processori quad core a 2,5 gigahertz significa che la cpu a 4 core che possiamo pensare come processori più piccoli che eseguono 2,5 miliardi di cicli che solitamente corrispondono ad operazioni aritmetiche base ogni secondo come abbiamo visto invece la potenza di un computer quantistico è determinata dalla quantità di qubit di cui è composto per i super computer invece la misura ufficiale sono i flops acronimo che sta per floating point operations per second ossia operazioni in virgola mobile al secondo le operazioni in virgola mobile non sono altro che operazioni matematiche fatte su numeri reali e decimali che nell'ambito informatico sono rappresentati in una nozione specifica chiamata proprio virgola mobile nel 1961 ad esempio il super computer di bm 7030 stretch è riuscito a superare la soglia del mega flops ossia un milione di operazioni matematiche al secondo come metro di paragone e per capire anche l'enorme progresso della tecnologia informatica negli ultimi decenni possiamo pensare che una cpu moderna da 2,5 gigahertz come quella usata nell'esempio di poco fa è associata a circa 10 giga flops quindi 10.000 volte tanto quel super computer del 1961 per quanto riguarda leonardo invece questo riesce ad arrivare anche a 250 peta flops ossia un milione di miliardi di flops e circa 100.000 volte più potente di un normale computer ma veniamo ora alla domanda cruciale per cosa vengono utilizzati i super computer l'uso che se ne fa è principalmente nell'ambito della ricerca scientifica e specialmente nel campo dell'intelligenza artificiale più volte abbiamo detto che l'apprendimento automatico e i modelli di intelligenza artificiale ogni giorno sempre più grandi e complessi hanno bisogno di essere addestrati con una quantità enorme di dati e con migliaia di cicli di addestramento tutto questo per produrre buoni risultati governi enti di ricerca ma anche aziende e così come l'unione europea finanziano la realizzazione di super computer come leonardo in grado di fornire ai ricercatori la potenza di calcolo necessaria per condurre esperimenti e alimentare il progresso della società sempre nell'ambito scientifico le norme capacità di calcolo che può fornire i super computer è utilizzata anche per le simulazioni ad esempio del comportamento di formule e processi chimici caratteristiche fisiche o per studiare e inventare nuovi materiali e di conseguenza capire meglio anche come funziona il nostro universo nell'ambito della medicina e della farmacologia sono fondamentali per la sperimentazione la produzione di nuovi farmaci o vaccini o per simulare la diffusione di un'epidemia o di un tumore e capire come contrastarlo nell'ambito meteorologico invece vengono utilizzati i super computer per poter affrontare le sfide del cambiamento climatico o per prevedere il comportamento del meteo ad esempio tracciando la traiettoria di uragani e tsunami e mettendo in atto meccanismi di prevenzione per salvare le città e le popolazioni a rischio i campi di applicazione dunque sono molteplici e questi sono alcuni piccoli esempi di ciò che può fare un super computer nell'ambito della ricerca scientifica e dello sviluppo ulteriore dell'intelligenza artificiale inoltre i super computer solitamente gestiscono diversi processi contemporaneamente richiesti magari da enti di ricerca differenti è dunque chiaro perché è necessario investire sempre di più in questa tecnologia a questo punto però bisogna rispondere ad un'ultima domanda ossia se i super computer così potenti vengono superati da computer quantistici di relativamente piccole dimensioni come mai si sta ancora investendo ed è necessario investire così tanto in questo settore la risposta è molto semplice i computer quantistici eccellono in determinati campi i super computer in altri per quanto riguarda la crittografia ad esempio come abbiamo visto un super computer potrebbe impiegare migliaia di anni contro le decine di secondi di un computer quantistico tuttavia il quantum computing così come l'intelligenza artificiale non è la risposta a tutti i problemi ma va utilizzato con parsimonia e quando è veramente necessario inoltre il quantum computing ha aperto la strada ad un approccio completamente diverso per quanto riguarda la programmazione del codice in quanto l'architettura di un computer quantistico è estremamente differente da quella di un super computer la sfida del futuro quindi sarà quella di integrare entrambe queste tecnologie mettendole a disposizione della ricerca scientifica e contribuire così al progresso di tutta e così si conclude questa puntata di insider dentro la tecnologia io ringrazio come sempre la redazione e in special modo matteo gallo e luca martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chiocciola dentro la tecnologia punto it seguiteci su instagram a chiocciola dentro la tecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità noi ci sentiamo la settimana prossima